Il suo arrivo è stata la vera sorpresa di questa 79esima mostra del cinema. Non era un ospite previsto, non avendo film che lo vedevano protagonista, o perlomeno la sua presenza in raguna non era mai stata rivelata. Invece Brad Pitt è sbarcato a grido su red carpet della mossa internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la mostra della rinascita poco prima delle sette di ieri sera. In estasi centinaia e centinaia di fan, lungo le transenne e sulle strade. Brad Pitt ha preso parte al red carpet del film Blonde dedicato alla figura di Marilyn Monroe, di cui è produttore. Brad si è fatto aspettare a lungo a grido. Alcune voci davano il suo arrivo già per le 16.30 e questo ha mandato tutti in fabbriazione con largo anticipo. Il suo red carpet è stato tra quelli top, tra i più frenetici attesi e concitati. Nei giorni scorsi le stesse emozioni, al top della classifica, si erano percepite per Timothee Chalamet, del film di Luca Guadagnino e Harry Styles, amati soprattutto dai teenager ma non solo. Non ci poteva essere con questi tre divi, riapertura migliore per il red carpet del Lido per tutta l'età. Pitt ha incantato davvero tutti da star universale hollywoodiana, arrivato mercoledì pomeriggio in Galuna e è atterrato all'eroporto Marco Polo di Tessera, in maglietta, chitarra, tracolla e look decisamente informale. Ieri, dopo una giornata frenetica, in cui ha sapientemente fatto perdere le proprie tracce, si è presentato su red carpet con una eleganza inappuntabile, smoking nero, capelli con brillantina, occhiali da sole per proteggersi dai flash. Così ha fatto impazzire i fotografi e tutti quanti. Grazie a tutti.